Buongiorno, sono Giulia Thieran, lavoro per l'IBM e sono la responsabile delle soluzioni di waste management. Siamo presenti qui alla fiera di Bergamo quest'anno con l'IBM per confermare l'impegno da un punto di vista aziendale ovviamente dell'IBM a livello worldwide sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare, ma soprattutto per rimarcare che l'IBM propone un grosso impegno anche a supporto dei clienti che sono tipicamente i soggetti che gestiscono i servizi ambientali. Da questo punto di vista quindi proponiamo una serie di soluzioni che consistono nella digitalizzazione di portali per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento, di rifiuti, processi che riguardano la registrazione dei conferimenti o dei rifiuti presso gli impianti, con una serie anche di soluzioni di data platform che potrebbero permettere alle aziende di poter iniziare a indirizzare un'attenzione maggiore rispetto ai temi della sostenibilità, perché attraverso l'elaborazione dei dati è possibile anche far emergere quei KPI che sono poi il campanellino d'allarme per capire come migliorare i processi aziendali in un'ottica di economia circolare. Quindi l'IBM mette a disposizione tutte le sue competenze consulenziali e tecnologiche per accompagnare i nostri referenti a intraprendere questo percorso virtuoso di economia circolare per raggiungere i famosi obiettivi della sostenibilità. Grazie. 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 Grazie.